il video che vi porto oggi parla di ufo dove andiamo ad analizzare il video in colombia del marzo 2020 potenziato e stabilizzato bene ora andiamo a vedere il video in questione sanna si hai salgo a la cancha si hai che sono Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Bene, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale e accendere la campanella e se vi fa piacere a lasciare anche un commento.